Sarà Silvio Orlando con Una vita davanti a sé, tratto dal romanzo di Romangheri, ad inaugurare il Lotto Link Festival, prologo autunnale della stagione 2018-2019 del Teatro di Ferrazzano. Lo spettacolo questa sera alle 20.30, domani alle 18, con replica sabato e domenica prossimi alla stessa ora. È un reading da un romanzo di Romangheri, un grandissimo autore francese, due volte premio Goncourt. È un romanzo per tutta l'età, dai piccoli agli adulti, ma soprattutto per gli adulti, perché insegna la convivenza civile, la tolleranza, lo stare assieme a dispetto di tutti. È un piccolo teatro che comunque riesce ad organizzare eventi di qualità, un cartellone di qualità. Sì, si deve soprattutto alla follia e alla generosità che sfocia nell'incoscienza di Stefano. Che insomma tutti noi amiamo e sopportiamo nello stesso tempo, però alla fine riesce ad animare un territorio che altrimenti sarebbe veramente abbandonato. Posso dire i musicisti, perché io leggo e dietro di me ci sono dei musicisti molto importanti, che sono Simone Campa, Roberto Napoletano e Antonio Scioli. Questo è il dovere di cronaca. Un cartellone ricco di eventi che avrà come tema conduttore la leggerezza, un programma al quale ha lavorato l'instancabile Stefano Sabelli, direttore artistico ed anima del Teatro del Loto di Ferrazzano. Questa rassegna che debutta stasera con Silvio Orlando, che ci ha fatto l'onore di venirla a inaugurare, che continuerà con una nuova creazione di Gisella Fuzzato e Gian Domenico Sale, che prima di andare in Argentina è una creazione di danza. Verranno in privé, lo dico proprio in privé, perché è il loro ultimo disco, ma saranno veramente ancora più in privé all'Oto di Avion Travel. Naturalmente andremo avanti poi, ospitando quei pazzacchioni della banda della Masciona. E poi chiuderemo con uno spettacolo di danza bellissimo, che è di Silvia Gribaudi, che è una dei migliori coreografe italiane del momento della nuova scuola. Ci sarà anche la ripresa all'Oto durante il festival del Moby Dick nostro, di nostra produzione, che io interpreto con Gianmarco Saurino, che adesso è anche diventato nel frattempo una star televisiva a tutti gli effetti e che viene riproposto all'Oto nella versione non che è stata realizzata qui la prima volta, ma con quella che abbiamo portato al Festival di Asti e poi a Seggessa, ovvero ci sarà tutta la barca e sarà il prologo della nostra tournée invernale, della nostra produzione.